bella raga e benvenuti in questa nuova live di minecraft anche se minecraft non l'ho mai portato sul canale però mi piace fare una live saluto ciao ragazzi sono qua insieme a Matteo Boleto andate a seguire anche lui se volete se volete andate a seguire pure Matteo si chiama Matteo Boleto su youtube però ne vale la pena seguirlo che lui fa i video a ogni Brawl Talk aspetta si sta caricando no lo voglio non gioco ah ok si è scaricato il joystick ecco non possiamo giocare più eh ragazzi mi piacerebbe molto se seguire anche io lo carico in batteria si è rotto quello che ha tenuto è 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